Buongiorno, complimenti per essere qui perché sono tematiche tante volte difficili e sono rari tante volte difficili, quindi è anche importante valorizzare chi ancora ha voglia di partecipare, perché come diceva prima Andrea Pontremoli, uno penso che dei limiti maggiori della società contemporanea è proprio a parole, voler partecipare, capire e nei fatti non far niente, questo lo vediamo tutti i giorni e quindi ogni giorno cerchiamo di migliorarci rispetto a come organizziamo le cose, come le comunichiamo, come poi abbiamo il feedback di quello che avviene e possibilmente migliorarci la volta dopo. In questi anni una delle esperienze sicuramente Parma io ci sto, ma pensiamo anche al risultato di Parma City of Gastronomy è nata dalla coesione, dall'unione di intenti di tutto un territorio e stessa cosa per la candidatura e il risultato di Capitale della Cultura, da cui però poi abbiamo fatto un passo in più che è quello della condivisione e della coesione dei comuni del territorio e delle province del territorio. Prima nel video che avete visto parlava l'assessore al turismo del comune di Reggio Emilia, noi nelle dieci città che erano in finale per Capitale della Cultura c'erano, oltre altre città in tutta Italia, ma tre dell'Emilia, tutte e tre della destinazione turistica, Piacenza, Parma e Reggio Emilia, che è stata una condizione strana, fortuita, ma che ci ha dato anche la possibilità di fare un ragionamento prima della designazione, che chiunque vincerà aiuterà gli altri e lavorerà con gli altri in un'ottica territoriale. Io dico sempre, non so come sarebbe finita se avessero vinto gli altri, ma noi che ci credevamo in questo concetto e ci crediamo sotto tanti punti di vista, da lì in poi abbiamo cominciato a lavorare con tutte e due le province, cosa che voglio dire in Italia forse è più unico che raro, perché partiamo da un ragionamento che è un po' quello che dicevamo prima degli imprenditori, in realtà è egoistico, cioè se uno viene a visitare Parma dall'estero, al di là che non coglie la differenza tra dov'è la Ferrari, dov'è il prosciutto e dov'è il parmigiano, perché se uno arriva dal Giappone 30 km o 50 km o 100 km sono la stessa, o dall'America sono la stessa città, e quindi tante volte quando mi trovo a dire ma avete la Ferrari certo, cioè non è che sto a spiegare, no guarda è due province più in là, quindi da questo concetto chi viene a Parma come turismo, che è sicuramente uno degli asset su cui abbiamo puntato, io dico a Parma città può rimanere mezza giornata, una giornata per visitare le cose che abbiamo, ma se rimane nella provincia rimane due giorni, tre giorni, ma se rimane nel territorio più ampio, va a visitare i castelli che abbiamo sia in provincia di Parma che di Piacenza, piuttosto che le terre dall'aceto al parmigiano reggiano e i percorsi matildici di Reggio Emilia, rimane adesso dico magari una settimana, allora in quest'ottica in cui se noi riusciamo a fare squadra, creiamo e offriamo dei servizi completi e dei percorsi completi, da qui siamo partiti per dire dobbiamo lavorare insieme, destinando anche delle risorse trasversali, quindi non è che lo facciamo solo a parole, diamo anche delle risorse alle altre province, e a maggior ragione la rete che il tema è sia provinciale anche, quindi stiamo cercando di creare una rete tra i musei dei comuni della provincia di Parma, sia dei musei che, diciamo, dell'attrazione, dei luoghi turistici, perché io dico sempre a Parma non abbiamo un castello e in provincia ne abbiamo diversi, a partire da quello di Bardi, di Torre Chiara, abbiamo le Rocche, di Fontanellato, di Soragna, e quindi è una ricchezza che andiamo ad aggiungere, non abbiamo i panorami della bassa, non abbiamo salumifici nel comune di Parma, e quindi anche qui l'importanza di una rete territoriale e della possibilità di far visitare questo tipo di reti. In più aggiungo un ultimo concetto di rete che si è sviluppata in modo autonomo da noi, ma di cui noi facciamo sicuramente parte e anche una parte importante, è la rete delle capitali della cultura. Si sta diffondendo un concetto, a mio avviso, molto positivo, che è chi è arrivato in finale, chiamiamola così perché non sa il meccanismo, chi vuole candidarsi capitale della cultura italiana si candida con un, diciamo, predossier, e quindi sono sempre in generale una media di una cinquantina di città. Poi c'è una finale, una short list di città che arrivano a una prova orale, come si direbbe a scuola, in cui siamo andati, io, Andrea ed altri, l'assessore della cultura e tanti altri, che sono dieci città e poi una vince. Ma come avviene per gli Oscar, in cui chi ha la nomination se ne vanta, cioè chi dice ho avuto tre nomination, è quasi come averlo vinto, si è creata anche una città, si è creata anche una rete delle dieci città, soprattutto che si candidavano per il 2020, ma che vorremmo allargare anche quelle che sono candidate per il 2018, perché si è saltato il 2019, perché il 2019 sarà la capitale europea della cultura, e sono città che hanno usato tutta la nostra stessa filosofia, o noi la loro, insomma, cioè del provare a dare gambe comunque al dossier creato per la capitale anche se non si è vinto. Perché tanti in realtà mettono, in realtà per fare sintesi del proprio progetto culturale e territoriale, perché poi alla fine i soldi che arrivano dal Ministero sono un milione che non cambiano la vita delle città, delle città più piccole magari sicuramente ne danno una mano, ma se uno ha in mente una filosofia, ha in mente delle priorità, portarle avanti è comunque importante, visto che le priorità tante volte cambiano e si dispergono delle energie. Quindi il concetto di rete ormai si è allargato, perché tutti hanno capito che è importante a diversi livelli lavorare insieme, perché da energie diverse, da persone diverse, arrivano anche tante idee da concretizzare. Quindi penso che possa essere un ottimo spunto per poi realizzarlo sotto tanti punti di vista.